Sì, il Consiglio Giovanni è partito con notevole ritardo per una questione procedurale che l'Ufficio di Presidenza poi ha risolto all'unanimità, Consiglio che è stato in bilico ma che è partito come dicevo con ritardo. Mentre noi vi parliamo dall'Aula del Consiglio prosegue la discussione. Primo ad intervenire è stato Greco del Movimento 5 Stelle che ha chiesto e ha presentato una mozione dove si propone l'annullamento in autotutela del piano operativo adottato dal Presidente rispondendo Greco a quello che Toma ha detto in apertura del Consiglio regionale. Ha detto io parlo in veste politica, non posso prendere impegni per il Governo nazionale, vi posso raccontare che idea ho io di sanità. Greco ha detto un punto fermo ci dovrà essere in questa idea il bilanciamento del rapporto pubblico privato. Poi ci sono stati degli altri interventi, è intervenuto Vittorino Facciolla che ha preannunciato da parte del Partito Democratico un intervento sulla mozione del Movimento 5 Stelle anche da parte del PD dove si chiede anche in questo caso l'annullamento in autotutela. Poi ha parlato Michele Iorio, sia Michele Iorio di Fratelli d'Italia che Aida Romagnolo hanno proposto un emendamento alla mozione del Movimento 5 Stelle dove si dichiara illegittimo il POS richiamando una sentenza alla 116 del 2020 della Corte Costituzionale. Il Presidente Iorio è stato molto duro per soprattutto la riduzione dei servizi per quel che riguarda gli ospedali in particolare di Termoli e di Isernia. Con noi c'è Vittorio Nola del Movimento 5 Stelle, allora quali sono le principali censure che fate al POS? Ma le principali censure è che deve essere ritirato tutto per il semplice motivo che voglio ricordare un po' a tutti i nostri cittadini che noi la bozza di questo POS in Nuce l'avevamo già discusso in quest'Aula proprio con i commissari Giustini e Grossi che vennero, ci illustrarono più o meno lo stesso testo e noi gli dicevamo tutti all'unanimità compreso Toma che quel POS non ci stava bene. Oggi ci troviamo un'altra volta a discutere di un POS che sembra sia stato adottato sulla base di quel testo senza sentire nessuno, senza condivisione non solo dei consigli regionali, quindi già è stato un atto abbastanza antipatico perché significa svalorizzare l'istituzione per cui siamo stati eletti, ma senza condividere nemmeno con le forze sociali. Adesso abbiamo la conferenza dei sindaci, abbiamo gli altri portatori di interesse che vogliono essere ascoltati, ma perché? Perché questa revisione, come ripeto, del piano operativo 1921 è un piano operativo che diminuisce ancora i servizi rispetto a quelli che già Giustini e Grossi ci indicarono. Quindi si capisce bene che è tutto da rifondare perché? Perché se si accetta questo piano sarà complicatissimo rivedere il nuovo piano 2022-2024, anche perché quel piano dovremmo approvarlo entro il mese di novembre-dicembre. Quindi o ci si mette a lavorare da subito e quindi si fanno tutte le revisioni contrattuali, anche con i privati, ma bisogna farli in tempi anticipati, non successivi. E poi ci sono due motivazioni di carattere obiettivamente tecnico-legislativo. Il primo, io sono convinto che se non si ritira questo piano così come noi suggeriamo, alla prima impugnativa presso il Tar succederà come l'altro piano operativo che verrà impugnato dalla Corte Costituzionale. Quindi abbiamo perso sostanzialmente tempo. La seconda, ancora più grave, è che non si potrà dar corso alle assunzioni. E sappiamo bene che se noi non acceleriamo invece sulle assunzioni, i nostri servizi non potranno essere erogati né a termine né a termine, ma nemmeno a Campobasso, dove ricordiamoci abbiamo ancora la pandemia in atto, il Covid che non c'è come reparto specialistico. Bene, la discussione qui in Consiglio proseguirà verosimilmente per tutto il pomeriggio e si concluderà con l'approvazione o la bocciatura di una mozione congiunta che presenteranno il Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, insieme al Partito Democratico. Tutti gli aggiornamenti nelle prossime edizioni del nostro Tg.